Anche l'Università di Camerino aderisce alla giornata nazionale delle università indetta dalla Crui per mercoledì 20 marzo con il titolo Università svelate. Unicam svelata sarà quindi il tema della giornata nel corso della quale saranno proposti seminari, incontri, conferenze, attività, aperitivi scientifici e molto altro. Un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità universitaria produce per la società che la sostiene. Unicam svelata. 20 marzo è la giornata nazionale delle università. Per la prima volta viene celebrato in Italia. Ogni università svela i propri contenuti, li apre alla popolazione, agli interessati, a quelli che sono curiosi di capire cosa succede dentro un'università e anche a trovare dei tesori che spesso sono nascosti e non sono noti alle persone. Quindi vi aspettiamo il 20 marzo all'Università di Camerino che si svela a voi tutti.